Esce forte questa volta Groppo l'atleta di casa ma Furlan è ancora più forte di lui e allora andiamo a vedere nella Proxession chi vola per prima è Furlan e poi Tomizioli si infila, Tomizioli, poi Groppo, poi Bonini e poi andiamo a vedere chi troviamo ancora, il Bonini, il Benedetti ma sono Furlan e Tomizioli i primi due inseguiti da Groppo